Buonasera a tutti e benvenuti allo spazio che Radio Science mi dà la possibilità di dire la mia opinione sulle problematiche in generale del mondo del lavoro per chi ce l'ha e chi non ce l'ha e in pratica voglio dare una determinata visione dei fatti che succedono del mondo è una visione di sinistra, non mi vergogno di dirlo ma ha una visione particolare, quella della sinistra comunista italiana che nasce ancora agli albori del 1900 i fatti che in questi 15 giorni dalla pausa tra una trasmissione e l'altra che ho la possibilità di dire la mia opinione li posso riassumere in questi casi il primo è l'attentato di Maastricht e ancora prima il virus Wanagrei che ha coinvolto, ha fatto discutere parecchio riguardante i danni che si sono avuti ma non solo, chi c'è dietro, chi non c'è dietro a questi virus i fatti sembrano scollegati uno dall'altro in realtà sono un tutt'uno un tutt'uno che riguarda la guerra in atto che c'è fra le grandi potenze ma soprattutto è scatenata e ne vedremo un attimo nel proseguo del mio ragionamento in atto perché il capitale non fa più profitto la legge del valore ha questa tendenza di abbassarsi e di ridursi sempre di più e quindi la guerra storicamente è stata quella che almeno finché c'è guerra c'è speranza diceva un vecchio film di Alberto Sordino questo fa profitti e ne vedremo il caso iniziamo, inizierei con l'ultimo sull'incontro che Donald Trump ha fatto a Riad ultimamente che sul sito di Repubblica Michele Serra descrive i recenti attentati poi in Europa come lo descrive Michele Serra dice una guerra mondiale dichiarata facendo così eco al Papa Francesco che lui sì da tempo si lamenta e dichiara che c'è una terza guerra mondiale combattuta a pezzi ma non solo c'è Michele Serra ma anche l'IMES che sappiamo è un mensile di geopolitica molto valutato in questo ambito cioè nell'ambito della geopolitica analizzando molteplici teatri di conflitto attuali e potenziali presenti sul pianeta si domanda se ed è un titolo di un po' di approfondimento se la terza guerra mondiale non sia già scoppiata di sicuro si è stabilizzata una simmetria tra i bombardamenti delle popolazioni civili in Siria, Iraq e Yemen e il terrorismo di cui si immola nelle metropoli europee di fronte all'avanzata delle forze occidentali in Medio Oriente Daesh rompe l'accertamento esportando la guerra in altri continenti già nel 2003 con la guerra in Iraq gli Stati Uniti hanno dato il proverbiale calcio al vespaio medio orientale oggi la situazione vede il consolidamento del terrorismo di matrice sunnita che viene sostenuto e finanziato anche dall'Arabia Saudita la quale è uno dei maggiori alleati degli USA nel mondo arabo ed ha scatenato una guerra in Yemen per colpire l'Iram che a sua volta è in lotta contro i fondamentalisti sunniti in questo scenario intricatissimo si inserisce la recenda visita di Donald Trump a Riyadh finalizzata almeno ufficialmente a stipulare accordi commerciali per la vendita di armi e sistemi missilistici per un valore di circa 110 miliardi di dollari ma non solo possiamo anche se noi facciamo una mappa e mettiamo i paesi che sono in guerra i paesi dove ci sono lotte contro le dittature i paesi dove la repressione è sfrenata vediamo che sono coinvolti circa 160 paesi del pianeta quindi siamo coinvolti quasi tutti in un modo o nell'altro anche per esempio il Venezuela che è una new entry nella lista degli stati e il colasso è ormai sull'ordo di default le manifestazioni antigovernative continuano e fino ad ora si contano più di 50 morti il petrolio che giace nel sottosuolo venezuelano è di scassa qualità ed è attualmente poco commercializzabile visto che la chiesta mondiale non cresce il paese dipende dalla vendita del greggio per il 90% delle sue esportazioni e avrebbe bisogno di quotazioni almeno il doppio delle attuali 50 dollari al barile per tenere i conti pubblici in ordine ma non è l'unico secondo il Fondo Monetario internazionale soltanto il Kuwait potrebbe sostenere l'attuale livello di prezzi avendo il break even a 49,18 dollari ci vanno vicini l'Iraq l'Iram e il Qadar che hanno fissato tra i 50 e i 55 dollari mentre sono più lontani l'Algeria con 64,7 dollari la Libia con 71,3 dollari e addirittura l'Arabia Saudita con 83,8 dollari quindi ci rendiamo conto che se continua questa guerra anche del petrolio a tenere al basso il prezzo del petrolio altri paesi andranno in default e altre situazioni quindi venendo meno lo stato sociale in quei paesi e stringendo perché dover sostenere la concorrenza un po' come succede nei paesi europei ne vedremo purtroppo delle brutte per i poveri per i proletari la guerra civile generalizzata è un processo irreversibile difficile immaginare che in Venezuela Siria o Iraq possono ritornare a com'erano prima del caos in corso pure il Brasile pur non trovandosi ancora in una condizione venezuelana vive da anni in una situazione caotica fatta di scontri scioperi generali e manifestazione oceanica in Tunisia il paese in cui ha preso le mosse la primavera araba da mesi si propongono scioperi blocchi stradali e picchetti che vedono migliaia di disoccupati scendere in strada e scontrarsi violentemente con le forze dell'ordine quindi la terza guerra mondiale è in atto o no? di sicuro una guerra c'è contro i proletari ma a fronte dei 110 dollari che magari qualche pacifista si incavolerà e metterà comunque in evidenza i 110 miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno firmato con l'Arabia Saudita questo accordo commerciale spero non si dimentichino il ruolo dell'Italia nella vendita delle armi io qui c'è un articolo di Repubblica del 27 aprile 2017 dove dice a proposito di vendita delle armi nel 2016 sono quasi raddoppiate le esportazioni italiane di armi se nel 2015 erano state vendute all'estero armi per 7,9 miliardi di euro l'anno successivo il totale ha raggiunto i 14,6 miliardi una crescita dell'85,7 rilevata all'interno della relazione annuale del Parlamento sull'applicazione della legge 185 del 1990 inviata dalla Presidenza del Consiglio con i contributi all'Istero degli Esteri Difesa Economia e Sviluppo Economico ecco anche noi abbiamo la nostra piccola fetta di esportazione per cui finché c'è guerra c'è speranza la maggiore spesa viene fatta il maggior accordo commerciale per 7,3 miliardi con il Kuwait con 28 gli aerei Euroflighter ma poi ci sono tutta una serie di altri paesi la seconda grandezza di armamenti più venduta risulta essere quella delle bombe dei siluri razzi missili e accessori che ha fruttato 1,2 miliardi al nostro paese in fattore commerciale ma se noi da questo questa guerra guerra guerreggiata più o meno ci inseriamo anche l'effetto del virus guanagrei possiamo vedere che la guerra è su tutti i fronti e mi sono sfatto due appunti li leggerò la vicenda iniziata quindi la vicenda del guanagrei nel 2016 quando il gruppo hacker shadow brokers mette in vendita online al miglior offerente potenti software di intercursione e incursione sviluppati dall'agenzia per la sicurezza nazionale degli stati uniti ma la stava male allora il gruppo decide di rilasciare pubblicamente i file svelando il mondo tecniche e informatiche utilizzate dagli spioni americani e dimostrando che chi si è infiltrato nel sistema NSA National Security Agency è riuscito a penetrare il cuore le concetture sul chi sono diverse ma senza conferme le due più diffuse ipotizzano l'una lo zampino di altre intelligence in primo quelli usa l'altra quindi queste due fazioni è l'esistenza di una talpa interna per il resto nella storia si è visto questi giorni la diffusione di un ransomware basato su codici trafugati dal NSA raggiunto i livelli mai visti prima da un punto di vista tecnico guanagrei e le sue varianti sfruttano due vulnerabilità presenti nei sistemi operativi Windows conosciute e sfruttate dall'NSA riparati da Microsoft con l'aggiornamento di marzo scorso il virus è stato rilasciato dalla Shadow Brokers dopo che la patch per la falla era già disponibile e pertanto le migliaia di computer coinvolti montavano sistemi sprovvisti dell'ultima versione del programma quindi OneAway nell'epoca quindi del capitalismo senile quella attuale non è più possibile operare una distinzione netta tra la guerra combattuta con i missili Sirian Iraq Yemen e quella combattuta online dato che la prima si ripercuote sulla seconda e viceversa il mararma sociale e le dinamiche del conflitto si riverberano nella e attraverso la rete l'infrastruttura globale che assomma tutto dalle transazioni commerciali al flusso continuo di informazioni non può quindi sottrarsi dalla guerra diffusa ed esattamente come accade con la guerra guerreggiata nessuno riesce ad avere il controllo delle dinamiche che si mettono in atto quindi è una guerra a tutti gli effetti con morti da una parte e anche dall'altra se i nostri governanti i nostri potenti la giustificano come guerra dell'Isis eccetera in realtà è una guerra dove la guerra di valorizzazione del capitale dove c'è sempre meno profitto e si cercano sbocchi per la valorizzazione del capitale se noi cambiamo il scenario vediamo che anche questa è la guerra fra le borghesia che si fanno per l'accapararsi i punti i punti nevralgici del pianeta dove ci sono esportazioni di petrolio ricavo o estrazione del petrolio o anche guerre economiche dall'altro c'è anche la guerra che la borghesia ogni borghesia nazionale fa al proprio interno al proletariato ne abbiamo parlato tempo fa riguardo i voucher e avevamo visto che la situazione oggi come il capitale di just in time cioè produrre soltanto quando serve al giusto momento e quindi anche i lavoratori devono essere pronti e disponibili e soprattutto quasi gratis come succede ultimamente a dare il proprio sangue la propria capacità lavorativa in quel momento e solo in quel momento avevamo parlato quindi che i voucher rappresentavano effettivamente quello che serve alle industrie per il maggior profitto e nel frattempo i voucher erano stati aboliti e noi avevamo detto dai voucher non si torna indietro almeno per il capitale a meno che non ci sia una forte reazione da parte del mondo del lavoro che oggi non vedo e effettivamente il governo sta facendo passare dalla parte che ha fatto fallire con il suo decreto legge di annullamento la possibilità di fare un referendum dall'altra ha riproposto con delle leggere modifiche il voucher ancora perché rispecchiano le esigenze del profitto del capitale ora o quindi c'è un grosso movimento dei lavoratori che mette in discussione ma non tanto il voucher di per sé ma tutto il sistema del profitto o altrimenti questa diciamo questa escalation negativa si ripercuoterà sempre di più sul mondo del lavoro e sul mondo anche del non lavoro sa di fatto che la borghesia è scogita di tutti i sistemi per spillare dal lavoro che è l'unico che crea valore dai proletari e guardate proprio i rappresentanti della borghesia come agiscono per riuscire a strappare ancora profitto del lavoro e l'altro giorno tempo fa su Repubblica e questo è un articolo di Repubblica del 18 maggio 2017 parla che i finti volontari della biblioteca nazionale cioè che fanno parte del ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sono finti volontari e vengono pagati sono stati pagati per anni con riborso spese fasulle e dicono hanno tentato e anche qui la giustizia borghese dovremmo stare un po' attenti a volte come è questa giustizia hanno fatto causa a una cooperativa che poi il presidente di questa cooperativa è un dipendente del MIBACT ed è un sindacalista ed è presidente di una cooperativa che che fa lavorare dei volontari queste cose un po' strane però in pratica questi mandano avanti avevano tentato scusate un processo perché dichiarasse che loro non sono dei volontari sono fanno del lavoro perché hanno un turno di lavoro addirittura se devono andare in ferie devono chiedere ferie ebbene il giudice è liato torto perché loro sono dei volontari allora che poi tra l'altro questi volontari in questi servizi fra poco saranno messi anche in discussione perché già si ventila di questo servizio civile nazionale poi il ministro lo ha annunciato l'altro giorno sulla donata nazionale degli alpini ci vorrebbe il servizio civile nazionale sì che faccia questi lavori gratuitamente e vada a superire determinate carenze di organico che il ministero proprio può essere lavoro non pagato altrimenti è un lavoro da schiavi e il giornalista sempre su Repubblica il primo articolo del 18 il secondo articolo del 22 va proprio a intervistare questo sindacalista e fa una domanda a caso male lo leggiamo brevemente così ne capiamo bene la domanda è questa quali sono le menzogne raccontate dai volontari perché questo presidente della cooperativa si lamenta loro non sono dipendenti ma volontari è questo il punto anche due giudici del lavoro del tribunale di Roma lo hanno confermato e hanno condannato i ricorrenti a pagare le spese processuali quindi sono i volontari lui dice no non si possono aggirare le leggi nel pubblico si entra solo per concorso pubblico lo ha detto anche il ministero Dario Franceschini e a domanda del giornalista formalmente sono volontari lo dicono anche loro però hanno dei turni se uno è volontario va quando vuole no? fanno turni di almeno di 4 ore ma è del tutto regolare grazie a una convenzione fatta con Giovanna Melandri e Walter Ventroni anni fa firmata anche dalla CGL che poi inganna attenzione queste persone dicendo che saranno assunte tutti i volontari hanno un imborso fisso come se fossero un stipendio normale anche questo normale che questo diceva il giornalista sono dei rimborsi spese e ho anche sbagliato a dargli io vado dalla magistratura me ne strafotto di quello che hanno dichiarato è assurdo dire che prendessero scontrini a caso se sono fasulli allora è una truffa quindi appena mi chiamerà la guardia di finanza porterò tutto alla magistratura e il giornalista incalza dice mi scusi ma lei andrebbe a fare il volontario quattro ore al giorno con il borso spese di 400 euro e cosa volete che risponda lo ha fatto anche mio figlio quindi io lo farei fossi assunti io vorrei che fossi assunti ci mancherebbero però lui lo farebbe andrebbe a lavorare per 400 euro al mese però dice il giornalista però non dipende mica da me io cosa centro mi perdoni quindi dice incalza il giornalista tutto tutto dalla CGL fino alla GUIL e via dicendo ha firmato anni fa un accordo dove si istituisce il volontariato nei musei e questi volontari insieme ai dipendenti mandano avanti la baracca ma le sembra normale la sindacalista e lui risponde il governo non vuole assumere perché non ha soldi questa è la verità e quindi dice il giornalista ecco le scamotage dei volontari risponde guardi che la mia formica come associazione Hauser Touring Club associazione Carabinieri sa quante ce ne sono e loro danno dei buoni pasto ai volontari che sono dei pensionati una cosa illegale l'unico modo che io avevo per dargli un riborso era il metodo degli scontrini sono persone di supporto ma non indispensabili e io non schiavizzo nessuno ma come si sono avvicinate queste persone alla vostra associazione di questi eventi della biblioteca eventi che poi hanno fatto la causa io non ne ho messo neanche uno sono stati segnalati figli di dipendenti iscritti a un certo sindacato la CGL si ma se loro vogliono farmi una persecuzione allora dico tutta la verità avanti magistrato scusi ancora ma dal sindacalista non vedi un problema etico in tutto questo ma tutto è tutto previsto dalla normativa devono cambiare la legge allora dal sindacalista dico che sanno benissimo di essere dei volontari a me danno cento e novantanove vanno a loro il mio bilancio è pubblico com'è tutta questa convenzione lei ci guadagna qualcosa qui ci sono associazioni grosse che fanno i miliardi il ministero ci dà uniborse e noi a noi e noi le giriamo i volontari l'imbo con Veltroni questo è previsto siamo nella piena legalità quindi tutte queste associazioni fanno filantropia sta dicendo questo io non ho nessun guadagno la mia è un'associazione non lucrativa se vuole le mando il bilancio lei è un dipendente del MIBAC presiede un'associazione che fornisce un servizio al MIBAC non c'è un conflitto di interessi? no è tutto regolare altrimenti mica avrei potuto farlo facciamo finta che domani nessun volontario si presenta ai musei italiani cosa succede? chiuderanno chiuderebbero tutti e così va avanti un po' anche ancora l'intervista ecco in che situazione siamo e in questa situazione lo siamo perché come forza del lavoro siamo siamo più niente non protestiamo più non abbiamo più delle organizzazioni sindacali che ci possono un attimo organizzare quindi l'unica soluzione è l'auto organizzazione io inviterei chi ha di queste storie da raccontare di raccontarle qui di dare voce a queste storie ma non per il fatto di essere un pianisteo ne abbiamo tantissimi che ci piangono sopra che il loro intento è quello di così di suscitare un po' l'animo a poverini cosa fa no il problema è un altro il problema è di cercare dell'organizzazione di fare organizzazione in modo tale da portare in rilievo questi problemi e poi le soluzioni bisogna trovarle assieme con questo ho finito ringrazio dello spazio che mi ha dato Radio Sayuz e ci sentiamo alla prossima trasmissione buonasera a tutti ciao